e chiamerei su questo floor direttamente da l'Italia Mr. Froz se la dovrà vedere contro Focus Flow Mo contro Bandits anche questa verrà decisa sulle tre riprese fatemi sentire un po' di calore per questa finale Napoli DJ Renegade are you ready? DJ Renegade are you ready? Napoli are you ready? Let's go! Let's go! Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Grazie a tutti. 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 Western European Finals direttamente dai Bandits Italia Frogs